e l'anteprima del nostro telegiornale ben ritrovati alcune delle notizie di cui ci occuperemo tra poco apriremo come sempre con la cronaca ancora un dramma sull'isola una donna si suicida a succhivo parleremo poi di politica a dischia con le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale ottorino mattera ci sposteremo quindi a fuorio dove sarà completata la condotta pluviale a citara problemi al cimitero di lacquameno dopo l'incendio della scorsa settimana ne parliamo con il consigliere comunale di opposizione carmine monti poi andremo a procida dove il sindaco ambrosino interviene sulla prossima edizione della sagra del mare e sull'attuale situazione dei conti del comune procidano e dopo il telegiornale come ogni martedì l'isola siamo noi e gli eventi in prima tv ci vediamo tra poco dopo la pubblicità immerso nel verde del suo giardino tropicale hotel terme colella la vacanza ideale per chi sceglie l'isola dischia camere categorie economy standard e vista mare tutte le camere attrezzate con servizi con balcone o terrazzo hotel terme colella reparto termale attrezzatissimo per bagni fanghi massaggi cure inalatorie e cure estetiche terapie convenzionate con il servizio sanitario nazionale centro benessere due piscine termali di cui una coperta con idromassaggio ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra serate piano bar cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta ampia scelta di pietanze senza glutine sono ammessi animali di piccola taglia ampio parcheggio gratuito a forio a 700 metri dal mare a pochi passi dal centro storico hotel terme colella in una cordiale ospitalità familiare la vacanza ideale sull'isola dischia albergo carlo magno sull'isola dischia un posto da sogno un panorama mozzafiato il luogo ideale per una vacanza speciale hotel quattro stelle tutti i comfort quattro piscine palestra camere e residence con arredamento in stile mediterraneo a pochi passi dai centri storici di forio e di l'acqua meno con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale negombo servizio navetta gratuito hotel carlo magno per una vacanza dove i sogni diventano realtà l'hotel carlo magno ti consiglia il ristorante la beccaccia cucina tipica ischitana e piatti mediterranei pesce sempre freschissimo per i tuoi momenti più belli per una serata speciale per cerimonie e matrimoni hotel carlo magno e il ristorante la beccaccia emozioni uniche tra il cielo e il mare la conchiglia nel centro di forio collane accessori souvenir e tanto altro ancora la conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani vastissima produzione propria di collane anelli e bigiotteria in argento corallo e pietre semi preziose personalizziamo la tua collana il tuo anello rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane in via erasmo di lustro dal 1973 la conchiglia tuffati in un mare di colori e preziose fantasie mille molliche artigiani del gusto mille molliche dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche il risultato pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati per il processo di lievitazione usiamo il criscito la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni da mille molliche trovi pane pane speciale pizze cornetti dolci ma anche primi secondi contorni e spizioserie da asporto l'arte del mangiar bene mille molliche artigiani del gusto vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile senza rinunciare alla qualità ce l'ho dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa certo e sempre aperto tutti i giorni naturalmente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13 e 30 finalmente a ischia il supermercato che non c'era adesso c'è sebon selezione bontà tutti i giorni suicidio su chivo una donna si taglia le vene si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di oggi da tempo soffriva di crisi depressive sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri ischia ottorino mattera presidente del consiglio ricoprirò questo incarico con equilibrio e sul nuovo esecutivo mattera dichiara questa giunta non piacerà a tutti fuori io verso il completamento della condotta pluviale ripartono i lavori interrotti dopo la risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice dell'intera opera mario savio riusciamo così a completare un'opera necessaria l'acqua meno dopo l'incendio problemi al cimitero di montevico carmine monti il calore sviluppato dalle fiamme ha lesionato i marmi auspichiamo un intervento sollecito procida al via la graziella ma le casse comunali soffrono il sindaco ambrosino scontiamo i debiti della vecchia amministrazione nonostante l'opposizione sbandieri altro benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di teleischi apriamo come sempre con la pagina della cronaca ancora un suicidio sulla nostra isola una donna di circa 50 anni si è uccisa tagliandosi le vene all'interno della propria abitazione in via provinciale panza su chivo nei pressi del distributore di benzina nel comune di serara fontana la donna era la moglie di un consigliere comunale di maggioranza il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri sembrerebbe che la donna da tempo soffrisse di crisi depressive a partire da questa sera fino alla giornata di domani mercoledì la campania sarà interessata da piogge abbondanti tutta la regione il sole e il caldo saranno sostituiti da nubi e rovesci anche a carattere temporalesco la protezione civile ha lanciato un avviso di allerta di colore giallo con decorrenza dalle 10 di domani mercoledì e per le successive 10 ore c'è il pericolo di scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei fenomeni dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione possibili cadute massi ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili la protezione civile invita quindi i sindaci della regione campania a disporre la vigilanza sul proprio territorio tesa alla verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane la festa di sant'anna è stata rinviata a lunedì prossimo il comitato organizzatore la guardia costiera hanno annullato l'evento in programma per domani a causa delle pessime condizioni meteo che si stanno verificando in queste ore caratterizzate dal forte vento è un mare in aumento che rendono impossibile la tradizionale sfilata dei barconi la manifestazione si terrà quindi il 31 luglio nella baia antistante il castello aragonese di ischia ponte non è la prima volta nella lunga storia della festa mare agli scogli di sant'anna che il cattivo cattivo tempo giochi brutti scherzi proprio il 26 luglio tanto che nella tradizione popolare si parla di burrasca di sant'anna ischia nel primo consiglio comunale ottorino mater è stato eletto presidente ricoprirò questo nuovo incarico avendo un ruolo di equilibrio tra i consiglieri e il dialogo con le minoranze sulla giunta il capolista di orizzonte comune ha ammesso enzo ci ha sorpresi le scelte del sindaco non faranno piacere a tutti ma era necessario dare un colpo di reni ed assestare un'amministrazione che doveva partire poi si vedrà sentiamo il presidente ottonino mattera il nuovo presidente del consiglio comunale di ischia sì abbiamo iniziato con questo nuovo diciamo capitolo dell'amministrazione ho avuto diciamo il consenso dei consiglieri e quindi diciamo inizierò a svolgere questo ruolo certamente con tutte diciamo le caratteristiche che mi contraddistinguono quindi con sincerità serenità e diciamo avendo soprattutto un ruolo di equilibrio di raccordo dei consiglieri e soprattutto di dialogo anche con le minoranze quindi speriamo che questa sia diciamo foriero di buoni risultati di dialogo e soprattutto di confronto non sterile ma soprattutto un confronto che porti dei risultati per il paese ottorino mattera noi più volte prima del varo di questa giunta avevamo parlato appunto delle possibili nomine all'interno dell'esecutivo a fianco ad enzo ferrandino alla fine è arrivata un'aggiunta tecnica un'aggiunta che mette d'accordo tutte le forze politiche beh del resto Enzo diciamo ci ha sorpresi anche lui stamattina con questa novità probabilmente questo potrebbe o sicuramente non farà piacere a tutti ma alla fine è necessario diciamo dare un colpo di reni e un assestamento all'amministrazione che doveva partire in ogni caso con le necessità che pure una stagione turistica avviata diciamo ci mette davanti quindi di conseguenza per adesso si parte così questa potrebbe essere anche una soluzione a medio e lungo termine non lo sappiamo vediamo la partenza è questa sicuramente una partenza che punta sulla qualità e questo potrebbe portarci anche dei risultati sorprendenti o comunque un cambio di rotta rispetto al passato per ora la sua lista orizzonte comune è soddisfatta di quello che ha ottenuto? Ma certamente il ruolo di presidente diciamo del Consiglio Comunale è un ruolo di primo livello e quindi sicuramente questo è un risultato è chiaro che magari sull'esecutivo qualcuno che è rimasto alle spalle non sarà contento ma per adesso questa diciamo è la partenza questo è il modo con cui Enzo ha voluto interpretare e intraprendere il suo percorso politico ma comunque condiviso anche questa partenza e poi se ci sarà necessità dopo nelle prossime futuro potrebbe anche esserci qualche cambiamento noi ci auguriamo una stabilità e quindi va bene così E torniamo sulla notizia di apertura il suicidio di oggi pomeriggio a Succhivo si chiamava Carolina Lombardi la donna di circa 55 anni che si è uccisa tagliandosi le vene all'interno della propria abitazione via provinciale Panza Succhivo nei pressi del distributore di benzina nel comune di Serrara Fontana la donna era moglie di Lucio Poerio consigliere comunale di Serrara Fontana titolare del ristorante Il Pirata nota Tavernetta di Sant'Angelo sul posto sono corsi sanitari del 118 dei Carabinieri la donna da tempo soffriva di crisi depressive ulteriore cambio all'interno del consiglio comunale di Forio il consigliere Vito Del Deo subentrato con Vito Castaldi a Mario Savio e Gianna Galasso ha rassegnato stamani le sue dimissioni per gli eccessivi impegni imprenditoriali lo stesso Del Deo lo aveva già preannunciato al sindaco alla vigilia del consiglio comunale di sabato scorso è stata una dimostrazione di stime di affetto nei confronti miei e di tutta l'amministrazione ha commentato il primo cittadino foriano a Vito Del Deo subentrerà la prima dei non eletti della sua lista Maria Rosaria Manzo A Forio è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento delle opere di scarico a mare delle acque pluviali a Citara dopo che l'amministrazione aveva deciso la risoluzione del contratto con la ditta paltatrice dell'intera opera che parte da Panza a seguito di una procedura negoziata è stato approvato il progetto redatto dalla SRL STCV in porto stimato 150 mila euro circa soddisfatto l'assessore Mario Savio riusciamo così a completare un'opera necessaria sentiamo Il responsabile del settore urbanistica del comune di Forio Marco Raia ha approvato il progetto esecutivo stralcio per la realizzazione delle opere di completamento per lo scarico a mare delle fogne realizzate da Panza fino a Citara redatto dall'ingegner Di Marco per conto della società STCV SRL l'intera opera di realizzazione del drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell'area urbana in località San Giuseppe fu affidata il 31 marzo 2015 alla ditta Romis SRL per l'importo di 1 milione ed 800 mila euro circa il 22 settembre 2016 la giunta municipale di Forio ha deciso la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali il comune ha così indetto una procedura negoziata per i lavori da realizzare mia Giovanni Mazzella alla località Pietrerosse per un importo stimato di circa 150 mila euro durata prevista dei lavori 60 giorni il primo giugno di quest'anno l'ingegner Di Marco ha presentato il progetto per conto della STCV che è stato approvato con determina numero 920 del 20 luglio l'assessore Mario Savio entra nel dettaglio dell'opera realizzata in danno alla ditta Romis e ci spiega che servono per finire il terminale che va nel parcheggio della Safen dove stanno i Poseidon quindi un terminale che saranno 200-300 metri che può portare il tubo da 110 al mare e quindi definire, tu poi bisogna definire un piccolo bypass che sono le pietre rosse quindi definire la friubilità delle acque L'incendio che ha avvolto la collina di Montevico all'Acquameno sta provocando danni collaterali all'interno del cimitero comunale i marmi dei loculi sistemati sui muri perimetrali infatti si stanno lesionando a causa del forte calore sprigionato dalle fiamme che sono arrivate a lambire il lato esterno delle pareti della struttura è da tempo che ospichiamo un intervento capillare per il cimitero sottolinea il consigliere di opposizione Carmine Monti Montevico all'Acquameno dopo l'incendio che domenica ha devastato tutta la collina e ha interessato anche delle strutture all'interno del cimitero Carmine Monti, dopo che cosa sta succedendo all'interno della struttura? Innanzitutto noi già da un po' di mesi abbiamo ospicato un intervento per il cimitero perché c'era una situazione sia per quanto riguarda le infrastrutture che per quanto riguarda tutti quelli che sono gli impianti presenti all'interno del cimitero veramente deplorivole l'incendio non ha fatto altro che aumentare lo stato di criticità che già c'era e poi tra l'altro qua sembra quasi che la testa non sa che cosa fa la coda infatti un delegato al cimitero diceva come mai il cimitero era chiuso e lo chiedeva al custode quando invece c'era un'ordinanza sindacale che ne imponeva la chiusura proprio per queste situazioni. Oggi con Giovanni Desiano siamo venuti al cimitero proprio per vedere quello che si sta facendo e per tentare di capire quali sono stati i danni compulsati soprattutto da molti cittadini che hanno avuto problemi presso le proprie nicchie e le proprie tombe. Tant'è vero che anche il custode del cimitero ha provveduto a segnalare all'amministrazione e all'ufficio tecnico i danni e ciò che sta succedendo nei giorni seguenti all'incendio perché che cosa sta succedendo? Che molti marmi che chiudono le tombe si stanno rompendo forse a causa del calore o di quello che si è sprigionato dopo all'interno del cimitero e quindi i cittadini vogliono delle risposte certe ma soprattutto noi come gruppo di minoranza auspichiamo un intervento capillare per quanto riguarda il cimitero di Laccameno perché basta fare una passeggiata all'interno e vedere delle immagini per capire che ci troviamo veramente in una situazione deplorevole. Si può definire terrorismo del fuoco quello che sta vivendo l'isola d'Ischia, una delle pagine più tristi dal punto di vista ambientale con roghe e fiamme che si sono susseguite praticamente ogni giorno. È davvero una pugnalata al cuore verde dell'isola d'Ischia, ha commentato Francesco Mattera, responsabili del CAI. Non possiamo restare passivi a guardare, bisogna creare una task force tra associazioni ambientalisti e persone che hanno a cuore la natura isolana per sorvegliare le zone più sensibili. Sentiamo. È un'isola che brucia senza sosta quella di quest'anno con tanti focolai che vengono accesi uno dopo l'altro. C'è veramente un allarme tra l'altro diciamo l'esperienza, quello che sta accadendo sul Vesuvio, desta molta preoccupazione. Ne parliamo con Francesco Mattera che è responsabile del CAI Isola d'Ischia. Allora che cosa si può fare per prevenire ma anche per tutelare l'ambiente? In questo caso è abbastanza chiaro il motivo di questi incendi che sono ovviamente di origine dolosa. Il caldo che fa e il fatto che non piove da molti mesi sono tutti fattori che vanno a contribuire poi a alimentare questo tipo di problematica. La prevenzione è sicuramente importante e soprattutto penso che quello che potremmo fare in questo momento, mi rivolgo ovviamente a tutti quelli che frequentano, che facciano parte o meno di associazioni ma che frequentano comunque la montagna e i sentieri anche in questo periodo, potremmo creare una sorta di piano strategico, di task force in modo tale da informare eventuali anomalie che possiamo riscontrare o perlomeno comunque presenziare anche il sentiero stesso. Questo è credo che la cosa più semplice che potremmo fare in quanto amanti e praticanti della montagna. Proprio la settimana prossima faremo un incontro tra le varie associazioni che si occupano anche della promozione del discorso della sentieristica, proprio per cercare di una strategia anche comune da questo punto di vista perché a Napoli abbiamo visto la situazione che è il Vesuvio in primis ma c'è tutta un'altra posillipo, la riserva degli astroni dove hanno rischiato la vita anche alcuni operatori del WWF, leggevo nei giorni scorsi e quindi è veramente una situazione che credo non sia mai stata così grave, almeno che io ricordi. È chiaro il segnale ovviamente, quindi c'è poco da dire, l'origine è dolosa e sappiamo in maniera ufficiosa ovviamente anche da cosa dipende. Si potrebbe parlare proprio di terrorismo del fuoco? Sì, penso proprio di sì, assolutamente. Sull'isola abbiamo avuto dei focolai, proprio ieri c'è stato quello molto grave lì a Montevezzi, la pelara ha bruciato, ovviamente distruggendo anche il lavoro che era stato rifatto dai volontari quest'anno dell'assaccionata che è stata rimessa nuovo. È chiaro che questo non ci ferma, nel senso che andiamo avanti, tutti quelli che hanno voglia di portare avanti questo discorso si va avanti, però dispiace molto, è molto rammatico da questo punto di vista e quindi veramente è il momento di fare fronte comune, associazioni ma anche cittadini, tutti quelli che hanno a cuore il nostro bene comune, è chiaro che l'unico modo è far fronte comune. Noi per quanto andiamo in montagna cercheremo di fare questo tipo di sorveglianza, di presenziare un po' i sentieri e quindi, ripeto, secondo me la cosa più semplice è proprio quella di fare una task force comune proprio per ovviamente laddove si riscontrano delle anomalie e subito segnalarle, sì, infatti. I vigili del fuoco di Ischia hanno rintracciato la piccola Sara Di, la bambina di sei anni che domenica scorsa aveva lasciato una letterina di ringraziamento in caserma, la bimba aveva scritto, emozionando un po' tutti, cari pompieri mi chiamo Sara Di e ho sei anni e da quando sono ad Ischia continuo ad avere incendi dietro casa, ogni volta sono terrorizzata e continuo a piangere, ma per fortuna ci siete voi che venite sempre a spegnere gli incendi e vi voglio dire grazie. Ieri il caposquadra Ettore Occupato aveva lanciato un appello dai nostri microfoni per invitare Sara in caserma e all'appello la famiglia della bimba ha prontamente risposto. Prosegue l'opera di risanamento dei conti del comune di Procida da parte dell'attuale amministrazione comunale, le nostre difficoltà economiche sono ben note, sottolinea il sindaco Ambrosino, con una politica di sacrifici stiamo pagando i fornitori, con questa manovra di risanamento dei buchi lasciati dalle vecchie amministrazioni alla fine produrremo risultati importanti e sulla Sagra del Mare, la manifestazione che prenderà il via il prossimo 29 luglio, il sindaco Ambrosino annuncia è tutto pronto, il progetto che abbiamo presentato alla Regione Campania per ottenere un contributo è stato approvato. Sentiamo. Sagra del Mare, momento di grande importanza per Procida, soprattutto la festa della Graziella, ma come si fa con le casse vuote? Innanzitutto mi fa piacere sottolineare che il progetto della Sagra del Mare che noi abbiamo presentato alla Regione Campania per avere un contributo è stato approvato, quindi anche questo è sintomo di una certa attenzione che l'amministrazione regionale ha nei confronti di tante realtà locali. La Sagra del Mare è un appuntamento importante, storico per Procida, per cui anche quest'anno ci sarà una bella iniziativa di coinvolgimento popolare per quanto riguarda questo appuntamento della nostra estate. In generale le nostre difficoltà economiche sono note, la maggiore è quella di dover non solo gestire l'ordinario, cosa che facciamo abbastanza regolarmente, ma dover recuperare e pagare fornitori che non erano pagati da parecchio tempo. Però riteniamo che con una politica che è stata impostata sin dal principio di sacrifici un po' per tutti, alla fine saremo in grado di produrre dei risultati importanti. Quello che più mi dispiace sono i soldi che ci rimettiamo nel pagamento degli interessi ogni anno, perché solamente gli interessi paghiamo intorno ai 400-500 mila euro, se non qualcosa in più, che potrebbero essere finalizzate in iniziative di carattere culturale, sociale e quant'altro. Solo che in passato, siccome non c'erano le energie necessarie per poter sostenere determinate spese, sono stati chiesti prestiti allo Stato e alle banche, per cui oggi non solo dobbiamo pagare il capitale che ci è stato prestato, ma anche gli interessi. È un elemento negativo rispetto al quale però ci siamo adoperati per venirne a capo. Quindi riteniamo che con questa politica di risanamento che abbiamo impostato, lasceremo alla prossima amministrazione, alla prossima generazione di amministratori, un ente in condizioni molto migliori di come l'abbiamo trovato noi. Le posizioni chiaramente possono dire ben poco, perché avendo governato per tantissimi anni, hanno prodotto i buchi di cui noi parliamo spesso e che dobbiamo necessariamente risanare. Quindi è un messaggio per loro, è un messaggio anche per tutti i cittadini che poi si avvicineranno alla vita politica, che è importante essere responsabili nei confronti dei propri concittadini e soprattutto nei confronti dei propri figli. Verso la Graziella 2017, l'amministrazione comunale di Procida annuncia che la giuria sarà composta sia da tecnici che da cittadini. La giuria popolare sarà eletta tra coloro che ritireranno il numero di codice presso apposite postazioni allestite nei seguenti giorni dalle 21 alle 23. Il 29 luglio a Marina Corricella in occasione della Sagra delle Alici, il 31 luglio in Piazza Marina Grande in occasione della cerimonia di commemorazione dei caduti del mare, il 3 agosto a Marina Chiaolella in occasione della gara gastronomica. Il sorteggio della giuria popolare verrà il 7 agosto alle 20 e 30 presso il palco allestito per la manifestazione. Per la prima volta, dopo 7 anni, l'Eav ha un bilancio in attivo, lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Sentiamo il servizio. Abbiamo un attimo da attendere per quanto riguarda questo servizio. Intanto andiamo al servizio successivo, c'è Francesco Gallitelli che è stato rieletto per il secondo anno consecutivo presidente del Lions Club dell'Isola d'Ischia. Proseguiremo con le tante attività già in corso, soprattutto nell'ambito sociale. Ha dichiarato Gallitelli. Sentiamo. Per il secondo anno consecutivo Francesco Gallitelli è stato scelto alla guida del Lions Club dell'Isola d'Ischia. Presidente, allora continuiamo nella scia delle cose già realizzate nell'anno precedente? Sì, sì, un altro anno di lavoro, anzi colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i soci che mi hanno dato fiducia per un altro anno e questo ci consente di continuare sul solco delle tante belle cose fatte dell'anno scorso, anche perché il tempo è poco, quindi non c'è stato tempo di fare tutto, però contiamo di proseguire il discorso anche per quest'anno. Anche per quest'anno il programma che vorrò sottoporre al giudizio dell'Assemblea penso che lo infarcirò di sociale e di disabilità, perché anche noi come club siamo sempre molto attenti a queste problematiche. Diciamo che in linea generale proseguiremo nel nostro schema di supportare il mondo dei giovani, probabilmente riproporremo il poster per la pace e forse anche cercheremo di fare qualcosa legato all'economia per cercare di dare un futuro ai tanti giovani dell'isola d'Ischia che altrimenti vanno via dall'isola. Poi per quanto riguarda l'ambiente faremo un service molto probabilmente a ottobre o a novembre sulla salvaguardia dell'ambiente terrestre e marino. Per quanto riguarda la vista riproporremo lo screening sull'ambliopia presso altre scuole materne, vediamo forse quella di Forio, e poi doneremo un macchinario particolare per permettere a una bambina ipovedente di frequentare le scuole elementari quest'anno. Diciamo che non abbandoneremo naturalmente, anzi sempre in prima linea per l'abbattimento delle barriere architettoniche, proseguiremo la collaborazione con la Wildman, il professor Brischetta e con i Rotary, e quest'anno cercheremo di fare anche qualcosa per l'altra grande area dell'Ions Club International che è il diabete, in particolare il diabete infantile. Dunque dicevamo dell'Eav che ha chiuso dopo sette anni un bilancio inattivo, vediamoci questo servizio con le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per la prima volta da decenni l'Eav chiude con un bilancio inattivo, siamo passati ad un'azienda che aveva 600 milioni di euro di debiti accumulati, deficit di gestione annuale, ad un'azienda che non ha più debiti e che ha un attivo di bilancio di 30 milioni di euro. E' bastato tanto lavoro, programmazione e gli umini giusti al posto giusto per compiere il miracolo Eav. L'azienda celebra per la prima volta dopo sette anni un bilancio inattivo e si avvia a programmare un futuro da holding del trasporto pubblico europea. Era un'azienda destinata a fallire, ha evidenziato il Presidente De Luca, oggi siamo passati ad una situazione di patrimonio importante e utili di esercizio. Soddisfatto il Presidente di Eav, De Gregorio, che è precisa. Dato storico perché negli ultimi cinque anni, dal 2011 al 2015, Eav aveva perso 320 milioni, quest'anno chiudiamo con un utile di 30, quindi mi sembra una inversione di tendenza importante che consente di programmare seriamente investimenti, cosa che peraltro stiamo già facendo, di cui si vedono già i primi risultati. Lo sport, il calcio, Nicola Mora da calciatore a direttore generale del Real Forio. A pochi mesi dall'addio al calcio arriva un nuovo ruolo per ex calciatore. Sentiamo. Con Nicola Mora, nuovo direttore generale del Real Forio. Nicola, ti ritroviamo, mai non avesse diversa, a pochi mesi dall'addio al calcio, questo nuovo ruolo si è già in piena attività, le prime impressioni dopo questi due mesi di lavoro. Sicuramente fa piacere questo ruolo che mi ha affidato la società, quindi la ringrazio ufficialmente per avermi dato questo incarico, logicamente è molto più complesso di quello che si pensa. Passare dal campo dietro a Schivania è un passo che sembra semplice e facile, invece è abbastanza complesso, però insomma ci stiamo adeguando nel migliore dei modi, cercando di fare il massimo e il bene del Real Forio. Presentato Flavio Leo, nuovo allenatore del Real Forio, come siete arrivati alla sua scelta? Si parla di progetto giovane. Sì, sicuramente sono stati valutati tutti i profili che ritenevamo opportuni sull'isola per poter guidare questa squadra, questo nuovo progetto del Forio e sicuramente quello di Flavio alla fine è quello che ci ha entusiasmato di più ed è quello che riteniamo più opportuno. Nulla togliendo a tutto il resto, però diciamo che partiamo con grande voglia di fare le nostre cose fatte bene e cercare a fine dell'anno di trarre i primi frutti. Mercato, già siete attivi? Che tipo di squadra avete intenzione di offrire a Flavio Leo e cosa gli chiederete dal punto di vista degli obiettivi di stagionale? Sicuramente Flavio ha fatto le sue richieste come allenatore e stiamo cercando di accontentarlo il più possibile. Sarà sicuramente una squadra improntata su gente isolana, sul senso di appartenenza, sulla voglia di emergere di questi ragazzi che avranno la possibilità finalmente di avere un palcoscenico all'altezza per potersi proporre al calcio che conta in campagna. Logicamente non sarà una squadra solamente fatta di giovani perché non si possono mandare i giovani allo sbaraglio ma ci saranno tre o quattro guide importanti che dovranno dare seguito non solo ai ragazzi più giovani ma anche a tutto quel movimento che stiamo cercando di mettere in piedi per far sì che Forio torni a essere una piazza importante come è stata in passato. Una passeggiata alla Pelara di Panza con l'artista Ambrogio Castaldi. Il tema della trasmissione L'Isola siamo noi di questa settimana. Con Ambrogio percorreremo il sentiero naturalistico sistemato qualche anno fa dalla Proloco di Panza discutendo delle caratteristiche estetiche del luogo ma anche di arte, vita ed eros. Seguirà una replica delle delizie di Daniela. La trasmissione L'Isola siamo noi come sempre va in onda dopo questo telegiornale ma intanto vediamocene uno stralcio. C'è un posto a Panza molto bello che sicuramente è adatto per delle conversazioni filosofiche, artistiche, culturali e ci accompagnerà oggi alla Pelara perché stiamo parlando della Pelara, Ambrogio Castaldi e Leonardo Miragliuolo. Allora Ambrogio noi ci troviamo qua, ora cominciamo il percorso. Questa è l'unica zona di Panza che è rimasta vergine come me e quindi praticamente ci accomuna proprio questo fatto che anche il nome Pelara tu capisci no? Quindi andiamo incontro proprio a un paesaggio molto selvatico è rimasto come 3.000 anni fa diciamo così. Ecco quelle rocce così importanti della Pelara, la parte geologica sicuramente in qualche maniera diciamo ti ha ispirato nella tua opera artistica tu che con la pietra ci lavori molto. Sì però quella è una pietra purtroppo che è difficile da lavorare e poi si trova in quella parte che non si può prendere non si possono prelevare pietra in questi giorni ho saputo uno che ha trafugato e ne aveva fatto un errore gravissimo non si fa una cosa del genere fare qualche cosa là allora sì si potrebbe, l'ho pensato sempre, tante cose ho fatte a riguardo quando riguarda la scultura per esempio una volta ho pensato ho fatto di, non sai, il polifema che scaglia su Ulisse i sassi no, è una zona che si presta proprio è molto mitologica quindi si potrebbe fare una scenetta del genere però è un po' difficile insomma sarebbe anche faticoso farlo ma la fatica per me non è che poi mi metta paura mi intimorisce il fatto che ci vuole un'organizzazione per fare un lavoro del genere perché il posto è lontanissimo dal centro quindi per portare materiale come gli abbelle per lavorarci ma io a 67 anni ancora ci avrei lo ispiro di affrontare un lavoro seppure così imponente domani 26 luglio presso il Palazzo Reale di Ischia alle ore 19 si terrà l'evento I Love Ischia organizzato come sempre dal giornalista Franco Cavallaro e dal Consorzio Operatori Turistici dell'Isola di Ischia coadiuvato da Luisa Anna Tutti Maria Giovanna Elmi presenterà la serata durante la quale saranno consegnati attestati di amicizia ad ospiti illustri dell'isola ed ora come sempre spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione revisioni per oggi al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparsi in montagna schiarite alternate a nubi sparsi nel pomeriggio sulle coste parzialmente muvoloso con schiarite prevalenti in montagna nubi irregolari con deboli temporali revisioni per domani al mattino sulle coste nubi irregolari con acquazioni intermittenti in montagna nubi e schiarite con possibili fiovasse nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con acquazioni intermittenti in montagna nubi irregolari con deboli temporali Grazie a tutti.